Buongiorno a Friuli, anche da parte della redazione sportiva, lunedì 7 maggio 2018, una rassegna stampa che andrà ovviamente a parlare del turno di campionato che si è appena concluso nella serata di ieri con occhi interessati anche per quanto riguarda la partita del Cagliari persa contro la Roma 1-0, è utile a mantenere, anche se di un solo punto l'Udinese fuori dalla zona rossa, dalla zona retrocessione, si parla però della sconfitta dell'Udinese sui quotidiani locali, poi approfondiremo anche tutte le altre tematiche, ma cominciamo dal messaggero Veneto come abbiamo già intravisto con Angela Caino nella rassegna stampa cronaca, il titolo in prima pagina di un Udinese sempre peggio con la B che ormai è a un passo, questa anche l'immagine che riassume un altro pomeriggio triste per i bianconeri con i giocatori che si interrogano, sconsolati anche un po' guardano in terra, dopo aver perso di nuovo contro l'Inter, una sconfitta che sul tabellino di marcia può starci, ma sicuramente è una situazione, è un passivo soprattutto pesante che hanno lasciato qualche strascico, Udinese bastonata ora è quart'ultima, l'Inter ne fa quattro, passeggia al Friuli, la Serie B è a un solo punto, tra l'altro con il Cagliari che ieri è anche sfiorato, il pareggio con la Roma questo va sottolineato perché sarebbe stato sicuramente un risultato più giusto, per fortuna comunque la Roma è riuscita a portare a casa una vittoria, Miseria e Nobiltà avrebbe detto Edoardo Scarpetta, Miseria, Udinese e Quarturti ma con una sola squadra a fare da cuscinetto con la Serie B, Nobiltà, l'Inter che sogna la Champions, alla luce tra l'altro del pareggio della Lazio contro l'Atalanta, un Inter che si è totalmente rilanciato, ieri l'invito a pranzo è stato davvero da incopo, l'inconsistenza psicofisica dei bianconeri a preoccupare in vista delle ultime due giornate, ripetiamo, sottolineiamo mille volte, lo mettiamo tra virgolette, sulla carta alla portata dell'Udinese che però deve impegnarsi come se fossero finali di Champions League, contro il Verona già retrocesso domenica al Bentegodi e il tranquillissimo Bologna che però abbiamo visto anche, che vedremo poi nella selezione dei gol e nelle parole dei protagonisti, Bologna che ad esempio contro la Juventus è andato a Torino a fare la sua partita, ha messo in difficoltà i bianconeri quindi bisogna assolutamente stare molto molto attenti, c'è poi anche in campo, parla Massimo Meroi che dice rinviamo il tempo dei processi perché a questo punto sarebbe inutile anche farli a due giornate dalla fine, aspettare quello che sarà l'ultimo triplice fischio della giornata e poi tirare le somme su quanto è stata e quanto sarà stata, lo vedremo poi, la stagione dell'Udinese, adesso bisogna stringersi e fare quadrato intorno alla squadra per cercare di venire fuori da una situazione molto molto difficile, quello che ha raccontato il campo lo vediamo come di consueto nella sintesi dedicata al match perso dall'Udinese, 4-0 in casa contro l'Inter. Udinese contro l'Inter è il lunch match della 36esima giornata di campionato, un Inter che vuole i punti per la Champions League, un Udinese che deve allontanare lo spettro della retrocessione in una gara molto difficile contro l'ex Luciano Spalletti, non solo lui, anche Andanovic e Candreva inizia benissimo però l'Inter che vede l'uno del gol strozzato in gola su questo colpo di testa di Perisic che ricorda anche un gol segnato nell'ultimo precedente allo stadio Friuli da Ciarena, salva però sulla linea Danilo molto attento a metterci un rammendo con Bizzar ribattuto ma poco dopo, sempre su palla inattiva, arriva un gol subito. La partita di Ranocchia che non doveva giocare, ha giocato per un infortunio di Miranda nel riscaldamento e ironia delle sorte, 13esimo gol in A per lui al minuto 13 con la maglia numero 13, Andrea Ranocchia un predestinato in questa partita ad andare in gol contro l'Udinese che si trova sotto e palesa qualche crepa, qui Icardi costringe Bizzarri all'uscita, ancora Perisic ma ancora Danilo che salva il gol sulla linea per la perplessità di Avie Zanetti in tribuna autorità, però ancora l'Inter che imperversa con Candreva che è molto egoista, non vede al centro Mauro Icardi ma tira malamente sopra la traversa, un Candreva che vuole questo primo gol nel suo campionato che non arriverà nemmeno nel pomeriggio odierno. L'ammunizione per Danilo sul proseguire dell'azione, poi la più grande occasione dell'Udinese, una palla illuminante di De Paul nel corridoio per Lasagna, qui Ranocchia si fa sorprendere alle spalle dall'ex Carpi che però non segna il suo terzo gol su tre partite contro l'Inter facendosi ipnotizzare da Andanovic, troppo frettoloso Lasagna, bravo comunque l'ex di turno a metterci il piedone sinistro, bravo anche Bizzarri a respingere una conclusione dalla distanza su punizione di Brozovic, uno dei migliori in campo dell'Inter, poi la frittata dell'Udinese nel finale del primo tempo che indirizza la partita, Rafinha va di fronte a Bizzarri, non può sbagliare. Primo gol in Serie A per il talento brasiliano arrivato nel mercato di gennaio, probabilmente il migliore in campo della giornata. Intelligente Gandreva che si disinteressa del pallone perché era in fuorigioco, Widmer prova a temporeggiare, ma Rafinha ha tutto il tempo di mirare l'angolino e metterla lì. Su quello stesso angolo segna, pochi secondi dopo Mauro Icardi, lancio di Ebrozovic per il numero 9, che si fa beffe di Samir, colpisce, forte sì, ma sul primo palo, incerto Albano Bizzarri, palla che finisce in fondo al sacco per il gol numero 28 in campionato per Mauro Icardi che mette nel mirino immobile, che infortunato non muoverà la classifica dei marcatori. Icardi che conferma il suo feeling con il gol, quarto consecutivo tra l'altro in questo campionato, striscia positiva per l'argentino, prova a rispondere l'udinese a inizio secondo tempo con un diagonale di lasagna che finisce però sul fondo. Poi l'ingenuità di Fofanà che in stile vecino su Mandzukic va a intervenire su Perisic, richiamato al VAR Mazzoleni, cartellino rosso diretto per secco Fofanà che prende la via degli spogliatoi, finisce praticamente qui la partita dell'udinese che incassa anche la quarta rete, serie di rimpalli che libera Borca Valero da posizione troppo invitante. Lo spagnolo non può sbagliare, gol anche per il giocatore ex Fiorentina, lascia scorrere il pallone Widmer, poi è troppo tardi per metterci una toppa fortunata all'Inter che chiude il match già virtualmente di per sé chiuso, sfiora anche il pocherissimo nel finale, la formazione di Spalletti con il passaggio di Eder per Caramò che praticamente spacca la traversa, la palla che non entra, poteva segnare il giovane attaccante dell'Inter, finisce così 4-0 per la formazione di Spalletti che dà un segnale alle romane invece, continua la crisi nera per l'udinese a Verona, sarà Gara Verità. Gara Verità a Verona, sono 14 le partite senza vittoria, E' un'udinese che deve assolutamente ripartire, anche perché lo abbiamo già sottolineato e analizzato nella serata di ieri in studio stadio, sugli scontri diretti, l'udinese è in difficoltà a pari punti, sarebbe salva solo con il Crotone per quanto riguarda quello che è la situazione di classifica, perché con le altre squadre invece non ci sono precedenti positivi, riepiloghiamo anche con l'ausilio delle grafiche quella che è la classifica, che vede il Cagliari dopo la sconfitta di ieri, comunque per fortuna rimanere lì a 33, un punto di distanza dall'udinese che è nel gruppone da 4 con Chievo e Crotone, Chievo che ha agganciato proprio i calabresi vincendo la partita di ieri, Spal che ne ha superate parecchi invece andando a quota 35, dal Bologna in su, le squadre sono praticamente salve, Sassuolo si è salvato vincendo contro la Sampdoria, un lindinese che si gioca a 6 punti determinanti, potrebbe addirittura chiudere a 40, ma deve farlo alzando i ritmi, per quanto riguarda la testa della classifica, lo scudetto è aritmetico, non ancora nelle mani della Juventus, ma virtualmente lo è, pensate che il Napoli dovrebbe vincere due partite 7 a 0 e la Juventus perdere entrambe, invece lotta Champions che è entrata nel vivo con l'Inter che ha accorciato sulla Lazio, non sulla Roma, a cui invece basterà un punto per andare anche nella prossima Champions, anche la lotta all'Europa è molto molto intensa, sono tutti fronti molto aperti, Verona e Benevento sono già invece in Serie B e proprio dal Verona ripartirà l'Udinese, torniamo sui quotidiani per sentire, per leggere ancora parole dei protagonisti con gli allenatori, Tudor è convinto, noi ci salveremo, volta Giappangina e pensa alla prossima gara con il Verona, se uno pensava di tirarsi fuori dalla lotta salvezza contro l'Inter si sbagliava di grosso, questo ha detto Igor Tudor, la differenza di valori, la verità al momento è che i neri azzurri si sono dimostrati troppo forti con De Paul, volevo dare qualità, Balic stavolta non è andato bene dopo le buone risposte che aveva dato invece in quel di Benevento, queste le parole di Igor Tudor che analizza la partita ma si focalizza soprattutto sulla prossima gara, sono pagelle ancora una volta molto cattive, quelle che piovono dal messaggero sui giocatori dell'Udinese, tutti e 14 di Torra Lavagna, quindi immaginiamo nessuna sufficienza, anzi molti 4 e 3 come era successo nella partita scorsa contro il Benevento, pochi arrivano al 5 e mezzo praticamente soltanto in lasagna, Rodrigo De Paul e Danilo, sono tra i pochi quantomeno a vederla da vicino la sufficienza ma a non prenderla voti diversi sicuramente per l'Inter in cui sono parecchi, invece i 7, quelli che vengono premiati, Brozovic, Rafinha, Perisic, Cicardi, anche Gioao Cancelo, molto molto positivo, domani ci sarà la ripresa, avrà ancora da stabilire della preparazione dell'Udinese in vista del derby del Triveneto col Verona, con Fofana che sarà squalificato perché ha preso il rosso con l'ausilio del VAR, quindi mancherà a centrocampo il Franco Ivoriano, hanno invece mantenuto la diffida De Paul, Adnan e Berami, tra l'altro Fofana era uno dei 4 giocatori diffidati, quindi rimarrà inalterata ma poco conta perché comunque rientrerà solo per l'ultima giornata di campionato, abbiamo parlato anche dei punti pesantissimi di Chievo e Spalle, il Crotone che invece viene fermato proprio dal Chievo, la spalla che ha battuto il Benevento che non ha proprio fatto la stessa partita che abbiamo visto in casa contro l'Udinese ma questo era anche purtroppo preventivabile, squadra che in trasferta stenta molto, Bruno Pizzul che dice, implora la Serie B no, per favore quella no, nella caotica situazione in cui si è cacciato all'Udinese si può essere abbastanza sicuri di una cosa, valutando attitudini e rendimento dei singoli, nell'arco dell'intera stagione è evidente che un po' tutti i giocatori hanno subito un lento processo di degrado, hanno perso smalto, lucidità, hanno accumulato un progressivo e continuo impoverimento tecnico, fisico e mentale, non è che l'Udinese si sia mai presentata come squadra del tutto affidabile ma tutti eravamo propensi a pensare che le carenze fossero tutte imputabili alla scarsa esperienza, invece queste negatività non sono ancora spariti assolutamente però bisogna fare in modo che nelle ultime gare bisogna trovare un guizzo per salvarsi, poi continua il pezzo di Bruno Pizzul nella sua rubrica area di rigore perché effettivamente l'abbiamo già detto ieri, la processione sarebbe un danno per tutti dal primo all'ultimo della spedizione e anche per chi ne fa da contorno e quindi l'importante è mantenere la categoria, poi le parole come al solito molto interessanti da parte di Spalletti Bianconeri in difficoltà ma non retrocederanno perché comunque una squadra che non lo merita è una squadra che ha valori con grandi giocatori, ha chiesto poi all'ambiente uno sforzo molto importante per riportare il timone dritto e sarà molto importante anche che tutti siano uniti sotto questo punto di vista. Prima di sentire le parole di Spalletti che sono molto interessanti facciamo la nostra costolita incursione nella centrale operativa della Polizia Municipale con il Vice Ispettore Cristiano Beretta per aggiornamenti sul traffico questa mattina buongiorno. Sì buongiorno, allora dopo la riapertura venerdì di Via Cividale e di Via Tuglio iniziano oggi invece le operazioni di asfaltatura per quanto riguarda Viale 23 Marzo quindi nel corso della mattinata inizierà la chiusura della parte di Viale 23 Marzo compresa tra il piazzale d'Annunzio e la nuova rotatoria del supermercato quindi la parte che passa sotto il sottopasso e la circolazione quindi verrà deviata sulla strada che porta sul piazzale d'Annunzio quella superiore quindi avremo qualche disagio qualche nel corso della mattinata ci sarà presente il nostro personale sul posto appunto questa è la notizia di oggi l'inizio dell'asfaltatura Viale 23 Marzo che poi proseguirà sul Viale Trieste nei prossimi giorni. Grazie mille al Vice Ispettore Cresi Dano Beretta per questi aggiornamenti se dovesse mettervi in moto fra poco sul traffico cittadino che come al solito sotto controllo con le indicazioni che dovevamo darvi. Torniamo a ritroso invece su quelle che sono state le parole di Spalletti sull'Udinese e a precisa domanda sull'ambiente che lui conosce molto bene la grande ex quale è stato con anche qualche metafora colorita ha fatto capire il suo pensiero. Secondo me nella rischia la rischia si è continuata a dire così secondo me non la rischia non la rischia perché ha una squadra forte perché ha delle partite è chiaro che lo stesso discorso e si faceva una settimana. Se dietro ci si porta sempre quello che si è vissuto e che ormai siamo quelli lì, voi ce la tirate dentro. State tranquillamente e ce la fate. Io l'ho vista in difficoltà oggi perché la mia squadra ha fatto bene e l'ho vista un po' in difficoltà però i calciatori dell'Udinese sono calciatori forti, la squadra è una squadra forte, l'ha fatto vedere a lunghi tratti del campionato che è una squadra forte, per lunghi tratti del campionato per cui ora è un momento dove qualche cosa bisogna nascondergli e continuare a pensarla com'è nella realtà che sono dei giocatori scelti perché quelli dell'Udinese sanno scegliere i calciatori. Hanno mandato in giro per tutto il mondo calciatori forti, gli osservatori dell'Udinese e la dirigenza dell'Udinese per cui sarà così. E che fa? Cioè la presenza di uno e di un altro che cosa fa? A calcio bisogna giocare noi, allenarsi bisogna allenarsi noi. Anche noi abbiamo il presidente in Cina che dice ma non c'è lì e se c'è che fa? Fa numero, siamo uno di più. Ambiente, allora compriamo due o tre vasi e mettiamo dei fiori. Buonasera a tutti. Questa è l'uscita di scena anche spettacolare, teatrale, di Luciano Spalletti che ha voluto dire la sua è un'Udinese che deve distaccarsi proprio sia da questa idea delle annate passate magari quando c'era proprio Spalletti in cui si vivevano palcoscenici diversi calarsi nella realtà della lotta salvezza e anche staccarsi dal momento negativo pensare soltanto alle due partite. Cosa che ha cercato di fare anche Tudor nella conferenza stampa. Vedremo il lavoro in settimana. Chi invece già da questa settimana comincerà a concentrarsi sui play-off è il Pordenone che pareggia contro i Renate 1-1 e vede i play-off e affronterà la Feralpi. Salò che è arrivata sesta contro il nono posto del Pordenone. Venerdì ci sarà proprio il primo turno a Salò. Finita fuori dai giochi invece la Triestina che è arrivata undicesima dopo un campionato di saliscendi, rossitto pragmatico. Abbiamo centrato l'obiettivo, per ora va bene così, il tecnico dice di essere felice. Si temeva a un certo punto la retrocessione. Parlato di Agostini, autore del gol. Una rivale vale l'altra perché ai play-off conta vincere. E basta. Vediamo al volo anche quelle che sono le immagini prima di spostarci a Cussignacco con un Pordenone che ha quindi comunque iniziato molto bene la partita andando in vantaggio proprio con De Agostini. Un pomeriggio sicuramente molto caldo anche a Pordenone. Qui il calcio d'angolo da cui frutta il vantaggio della squadra di Rossitto. Il colpo di testa imperioso sul primo pallo di De Agostini in mezzo a tante maglie. Pallone che sbuca lì e di testa lo gira De Agostini alle spalle del portiere. Arriva poi la doccia fredda a nove dal termine. Un gol molto simile anche se non proprio da calcio d'angolo. L'esultanza anche dicevoli per questo colpo di testa da parte di De Luca che non lascia scampo al portiere del Pordenone. Pordenone che proverà un assedio fino alla fine. Un risultato che anche se fosse maturata la vittoria non avrebbe cambiato più di tanto le carte in tavola. Un Pordenone che voleva, doveva forse centrare i play-off lo ha fatto con una gara di sofferenza con questo gol nel finale che ha messo un po' di spavento ai giocatori neroverdi ma poi alla fine non più di tanto e quindi ci si prepara ai play-off perché minima anche la possibilità che la prossima rivale sia l'Albino Leff e queste sono un po' le tematiche che rimbalzano proprio dalla pagina dedicata del Messaggero Veneto al Pordenone. Continuiamo a spostarci all'interno delle pagine del Messaggero Veneto anche per concentrarsi sulla GSA però prima andiamo a Cusignaco come vi dicevo prima perché vedo pronto il nostro primo collegamento Davide Zanirato con Gigi Lanzilli. Buongiorno a voi. Buongiorno a te, buongiorno a te Stefano e ai nostri telespettatori siamo pronti come ogni lunedì con Gigi Lanzilli per fare l'appunto sul fine settimana sportivo tra l'altro oggi andremo anche ad aprire le buste con i pronostici che avevamo fatto ad inizio stagione per quanto riguarda i dilettanti e il Pordenone. Gigi partiamo invece dal match dell'Udinese un match che è durato un tempo i ragazzi di Tudor sono riusciti all'inizio in parte ma non troppo a trattenere le avanzate nera azzurra e poi c'è stata anche questa occasione di lasagna poi più nulla. Ieri secondo me probabilmente questo è un mio giudizio personale abbiamo affrontato questa gara qua nella maniera probabilmente sbagliata di affrontare l'Inter andando a cercare di pressarli alti sia le condizioni climatiche sia i palleggiatori che vanno a centrocampo l'Inter e le ci hanno messo in difficoltà senza contare che c'è qualche giocatore in questo momento dell'Udinese che è proprio fuori fase penso allo stesso Fofanà ma allo stesso Samir sono giocatori che fino all'anno scorso diciamo ci davano qualcosina in più in questo momento si vede che sono in difficoltà oltre che tecnica anche fisica nonostante tutto l'Udinese ha avuto due o tre buone ripartenze una di quali lasagna ha sbagliato un gol ha fatto una gran parata a Andanovi c'è anche due dove ci siamo trovati in superiorità numerica e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio però ogni volta che attaccavano loro davano la sensazione che potevano farci gol quindi io credo che veramente in questo momento l'Udinese ha preso nove gol in tre partite il problema grosso sia anche il fatto che veramente subiamo gol in maniera troppo facile ora si va a Verona partita verità adesso si va a Verona con un'altra mentalità nel senso che prima potevamo pensare al punticino adesso bisogna andare a giocare per il risultato e in questo momento c'è una grandissima confusione si vede che i giocatori non sono tranquilli si vede che questi giocatori hanno paura di sbagliare la prima difficoltà spariscono dal campo e senza contare che giochi con una squadra che probabilmente giocheranno con dei giovani con una voglia di emergere con una voglia di di mettersi in mostra senza contare che non ha nulla da perdere il Verona una squadra che comunque ha delle buone individualità col Milan secondo me è una squadra che è vero che ha subito però comunque davanti ha della sensazione che può farci gol io credo che domenica sia una partita difficilissima e l'ultima col Bologna sarà dura lo stesso trovare compattezza dunque per trovare questi punti con Gigi ci ritroveremo tra poco dunque per parlare di Pordenone ma anche di dilettanti dicevamo appunto per svelare i pronostici di inizio stagione a te Stefano sì aspettiamo l'apertura delle buste come quando si faceva le vecchie comproprietà c'è grande attesa ma condividiamo anche l'analisi di Gigi su quelle che saranno le prossime partite guai a sottovalutarle anzi saranno due partite molto molto difficili l'udinese la salvezza dovrà combattere per ottenerla con le unghie e con i denti ha detto Tudorieri comincerà a scegliere anche quelli che negli occhi hanno più voglia di emergere in campo e sarà una chiave di lettura possibile andiamo in fascia pubblicitaria noi torniamo e dobbiamo parlare ancora di GSA completare i discorsi sull'udinese e proiettarci anche su tutta quella che sono le tematiche della stampa nazionale rimanete lì buongiorno Friuli di nuovo eccoci ritornati sempre in diretta per la seconda parte insieme di Rassegna Stampa Sportiva ricominciamo dove ci eravamo lasciati con la GSA che stasera gioca a gara 4 al pala oltre po' di Voghera contro Tortona è l'ardo che sprona l'Apu serve più grinta e possiamo battere Tortona dopo il K.O. in gara 3 sappiamo come eliminarli stasera voglio una squadra concentrata al massimo come al solito nelle serie di basket non c'è tempo di rifiatare che si torna subito sul parquet l'obiettivo conclamato è quello di evitare il ritorno di Tortona a Udine lo aveva già detto Pedone dopo la vittoria di gara 2 per farlo deve vincere stasera Udine altrimenti scatterà gara 5 che sarà da dentro o fuori di nuovo al Palacarnera giovedì nel frattempo Trieste passa il turno e se la vedrà contro Montegranaro con la vittoria netta di Trieste che ha già superato il turno c'erano pochi dubbi anche su questo tornando invece sulle parole di Lardo rimarca riprendere il controllo dei tabelloni è fondamentale per vincere in gara 3 per la prima volta loro ci sono stati superiori sotto canestro e lì c'è stata anche un po' la differenza tra la vittoria e la sconfitta per Udine che si aggrapperà come al solito alla grande individualità di KD Kendall Dykes continuiamo a parlare anche di Udinese non solo sulle pagine del Gazzettino che ci propone le sue considerazioni sul momento dell'Udinese una vendetta dell'Inter dopo la gara dell'andata il Friuli è un poker da Champions Udinese travolta Nerazzurri sempre padroni del campo Rafinha fra i migliori realizza il suo primo gol italiano con davvero un dominio del campo soprattutto poi dopo il finale pazzesco di primo tempo l'undici di Spalletti domina per 45 minuti nella ripresa controlla la gara complice anche la giusta espulsione di Secofofanà la salvezza è possibile ma domani scatta il ritiro questo titolo tra le parole di Tudor è quella che potrebbe essere la decisione della società poi il Chievo che respira è in guai a Zenga, giallo e blu vincono lo spalleggio salvezza con il Crotone ora con Bologna e Benevento potrebbero bastare tre punti questo per quanto riguarda il Gazzettino facciamo un'altra interruzione alla lettura dei nostri quotidiani per andare allo Smeralpa per le previsioni del meteo dei prossimi giorni c'è con noi Livio Stefanuto buongiorno eccomi qua, ciao, buongiorno a tutti sì, dunque questa mattina abbiamo ancora un po' di nubi residue dopo i temporali di risere di questa notte sulla montagna e sull'alta pianura questa mattina abbiamo ancora qualche nube sulla pianura e sulla costa localmente in pianura abbiamo anche qualche goccia di pioggia comunque in montagna invece il tempo è migliore nelle prossime ore dovrebbe esaurirsi del tutto questa residua di instabilità quindi il cielo in genere nel pianura e costa sarà poco nuvoloso nel corso della tarda mattinata e poi del pomeriggio sera invece un po' di variabilità tornerà in montagna non è escluso che sul Canin al confine con Slovenia oppure sulle Carniche al confine con il Cadore e con il Veneto possa esserci localmente qualche breve rovescio sulla costa continuerà a soffiare Bora Bora che ha soffiato con raffiche fino a 70 km all'ora questa notte si attenerà nel corso delle ore centrali della giornata forse avremo anche un po' di brezza sulle costa di Lignano invece avrà un prevalente nord-est sul golfo di Trieste in serata il tempo dovrebbe cominciare a migliorare ovunque ci aspettiamo una nottata col cielo sereno sulla nostra regione e domani mattina ripartiamo col bel tempo col cielo sereno per poi avere di nuovo un ritorno delle lumi nel corso del pomeriggio temperature massime oggi di nuovo attorno ai 27-28 gradi in pianura attorno ai 26 sulla costa è tutto, buona giornata Grazie a Livio Stefanutto e ai previsori dell'Osmeracqua a cui auguriamo un buon lavoro queste le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni torniamo sui quotidiani per quanto riguarda il gazzettino che riporta le parole di Tudor che giura resteremo in serie A il tecnico croato fa autocritica ma conserva la fiducia di fondo dimentichiamo questa partita e andiamo a Verona con l'obiettivo del successo si dice certo l'udinese ce la farà Igor Tudor chiudiamo proprio l'argomento udinese inter sentendo le parole l'intervista a Igor Tudor realizzata nel post-gara a quelle che sono state le parole dell'allenatore dell'udinese abbiamo parlato a lungo di quel minuto di blackout a fine primo tempo che purtroppo è costato sostanzialmente la partita perché l'udinese ha sofferto però quel minuto poi di fatto ha un po' sigillato chiuso la partita no, è stato prima di tutto un inter troppo forte per noi poi due goli prendiamo di nuovo da calcio d'angolo è un faro laterale e poi 1-0 abbiamo avuto due grandi occasioni con la zagna davanti con vallano con la testa però come ho detto dimentichiamo in fretta questa partita e guardiamo avanti due prossime partite che bisogna salvarci rispetto alle scelte ha riprovato De Paul che poi è stato sostituito per ovvi motivi dopo l'espulsione di Fofanà però aveva risposto bene come a Benevento aveva di fatto costruito lui quelle due grandi occasioni Rodrigo è forte importante per noi poi abbiamo avuto un giocatore in meno sarà importante in prossime due partite come ha cercato un po' di ricaricare la squadra in questi minuti perché chiaramente purtroppo uscire con una sconfitta con un passivo magari può aver dato un'ulteriore scossa negativa ha provato a dire qualcosa ai ragazzi sicuramente bisogna tirarsi su in fretta a dimenticare questo perché così è nel calcio si dimentica in fretta si prepara in meglio si fanno delle scelte vedere qualcosa di cambiare poi bisogna fare la partita così è adesso c'è alle porte già chiaramente la partita con il Verona che è una partita fondamentale in chiave salvezza ha in mente magari anche qualche situazione diversa per prepararla in modo in modo differente no sono tutte e due importantissime poi vediamo parliamo un po' facciamo buona analisi e prima fare le scelte giuste bisogna fare le scelte giuste lo ha rimarcato più volte Igor Tudor per salvare l'Udinese i punti a disposizione sono ancora sufficienti per la salvezza l'unica cosa positiva in un momento così nero è che il destino è nelle mani dell'Udinese che centrando il massimo dei punti sarebbe aritmeticamente salva potrebbe esserlo anche magari senza sei punti ma bisogna guardare a cercare di fare il possibile la Juventus il possibile lo ha fatto e alla fine come ci dice la gazzetta lo scudetto non nominato ormai è tuo a due turni dalla fine la Juventus ha sei punti di vantaggio e un più sedici di differenza sareti sul Napoli il settimo scudetto di fila è virtualmente in banca vi ripeto una differenza di meno sedici presuppone che il Napoli debba vincere le ultime due partite con un risultato di 7 a 0 e la Juventus perde due quantomeno per 1 a 0 insomma più che difficile è davvero un cavillo la possibilità di festa della Juve le ultime speranze di Sarri sono state cancellate ieri da un bel toro 2 a 2 è finita dal Napoli e Torino potrei pensare all'addio dice Maurizio Sarri molte frizioni con De Laurenti ieri tra l'altro il tifo napoletano si è schierato con Sarri in maniera anche un po' al di là del bel lavoro fatto da Sarri un po' esagerata perché comunque De Laurenti ha tantissimi meriti Euroshow Inter fa 4 gol Lazio ora a meno 2 Roma quasi Champions poker nera azzurra udine bianco celesti che faticano contro l'Atalanta i giallorossi che inguagliano il Cagliari poi c'è il Sassuolo salvo Spal un punto sopra la mischia il Chievo che aggancia il Crotone anche l'urlo nel deserto viva Viviani bis in volata per quanto riguarda il Giro d'Italia vedo pronto però Davide Zanirato con Gigi Lanzilli per credo aprire le prime buste non lo so siamo assolutamente curiosi vengo da voi sì eccoci qua Stefano prima di aprire le buste con i pronostici andiamo anche a fare un po' il punto della situazione dopo l'ultima giornata di ieri tanti verdetti erano già scritti ieri sono arrivati gli ultimi soprattutto per quanto riguarda l'eccellenza è stata accertata insomma la discesa in promozione di oltre un e un pasiano per quanto riguarda invece i playoff è pronta la griglia sì sì ieri allora abbiamo confermato che appunto vanno ai playoff ai playoff Virtus Corno e Kras il Kras è riuscito a vincere a trecesimo ed è stata anche l'ultima partita del capitano di Agostino un mio ex compagno di squadra facciano in bocca al lupo per il dopo calcio era un ragazzo a cui ero legato particolarmente quindi tanto di cappello dopo 17 anni di trecesimo ha mollato anche lui e via per quanto riguarda poi invece Lumignaco ora si apriranno i playoff per il tentativo di accesso con l'Imperia la prima gara speriamo bene speriamo perché ha un organico per arrivare fino in fondo Lumignaco ma lì conterà molto la testa e la condizione fisica ecco diciamo ma il mister è molto bravo e credo che abbia buona possibilità di giocarsi fino in fondo questo playoff tra l'altro proprio ieri è arrivata la positiva notizia che sia Charlie Smuzzane che Tamai rimangono in serie quindi potrà aumentare sicuramente nel prossimo anno col Chionse forse con Lumignaco la pattuglia regionale sì per il movimento regionale va bene perché avere più squadre in interregionale significa avere più giovani che giocano in categorie più alte quindi valorizzare i nostri giovani buongiorno e quindi ho tanto di cappello sono contento che appunto queste squadre vadano su ci fermiamo qui con Gigi lo lasciamo un attimo ai suoi clienti poi siamo pronti per aprire le buste assolutamente lasciamo anche libertà di servire i propri clienti a Gigi e torniamo a parlare delle tematiche del calcio nazionale con la Juventus che festeggia praticamente non lo fa ancora effettivamente lo scudetto lo facciamo anche vedendo insieme come di consueto ogni lunedì mattina i gol che sono stati segnati in questa 36esima giornata ricca ricchissima di reti partendo proprio dalla partita della Juventus con Verdi del Bologna che spaventa il bianconero in primo tempo molto brutto della Juventus che poi Allegri fa dei correttivi fa un correttivo inserisce Douglas Costa giocatore davvero pazzesco al momento uno dei più in forma del campionato che riposava in vista della finale di Coppa Italia mercoledì sera contro il Milan arriva l'autoretta di De Maio poi sale in cattedra proprio Douglas Costa il brasiliano prima serve che dira con il Bologna che protesta per un possibile fallo del tedesco non ravvisato dall'arbitro poi ancora sempre lui Douglas Costa secondo assist di giornata e gol di Dybala che segna ancora e va a chiudere la partita sul 3-1 poco prima sabato si era giocata Milan-Verona che ha sancito la retrocessione dell'Ellas il gol di Cianoglu con Ertò sulla linea che non riesce a liberare e arriva il gol del Turco che sta diventando sempre più continuo poi il bellissimo movimento in area di rigore di Patrick Putrone 8 gol in serie A capocannoniere di questo Milan che poi dilaga con Abate che torna al gol dopo mi sembra 860 giorni di astinenza e festeggia giustamente bellissimo ma inutile gol di Lee il coreano che con un destro al volo fa secco Donnarumma ma poi arriva il poker definitivo del Milan con Fabio Borini sul secondo assist di giornata di Buonaventura l'esultanza del numero 11 di Gattuso ci spostiamo a Verona vittoria pesantissima del Chievo contro il Crotone passa in vantaggio la squadra di Danna che ha preso il posto di Maran in settimana salendo dalla primavera colpo di testa di Birsa traversa il rete poi in Genoa il Crotone che sul fallo laterale fa ricevere Stepinski che segna un gol tanto bello quanto difficile l'esultanza del Polacco il gol del Crotone arriva troppo tardi ed è il primo sigillo in Serie A di Tuminello Giovane Scuola Roma che quest'anno ha avuto la lesione del crociato si è ripreso adesso ha fatto il suo primo gol in Serie A continua il grande tentativo di impresa europea della Fiorentina che passa in vantaggio a Genova contro il Genoa con il gol di Benassi su assist di Simeone poi il gol dell'ex quello di Pepito Rossi che torna al gol in Italia dopo anche lui una lunga astinenza 1-1 poi addirittura il Genoa che trova il gol del 2-1 con Gianluca Lapadula una bella azione tutta a due tocchi del Genoa ma da lì Pioli pesca dalla panchina le soluzioni e la prima è Ayserich che segna il suo primo gol in Italia lo farà e lo seguirà poco dopo anche Brian Dabot tutti e due entrati dalla panchina ecco qua il sigillo del giocatore francese che poi mette in mostra il suo imponente fisico vittoria importantissima della Fiorentina continua a segnare Barrow non sorprende ormai più già terzo gol in Serie A per lui secondo consecutivo in casa della Lazio che pareggia con Caicedo che gioca al posto di Immobile su assist di Luis Alberto Luis Alberto che si infortunerà poco dopo per la Lazio questo è sicuramente un grave problema poi la dormita clamorosa di Burdisso che porta a spasso il pallone in area di rigore Mertens lì dietro ne approfitta e va a segnare il gol dell'1-0 pareggia però il Torino con Baselli questo tiro non irresistibile deviato alle spalle di Reina gelato il San Paolo che si riaccende con una perla di Marekamsik che fa 100 gol con la maglia del Napoli pazzesca la conclusione dello Slovacco che esulta ma ancora una volta verrà beffato il Napoli altro assist di Lijac questa volta è De Silvestri di testa a depositare alle spalle di Reina 2-2 che consegna appunto lo scudetto in maniera più che virtuale nelle mani della Juve questo è il gol salvezza del Sassuolo segna tanto per cambiare Politano Viviano prende gol sul suo palo e la partita finisce 1-0 poi la Spal vogliosa e fortunata su questa azione la traversa che favorisce il tap-in semplice semplice di Alberto Paloschi poi il rigore un po' discurso abbiamo visto anche ieri nelle immagini Antenucci che spiazza Pugioni per il gol del 2-0 che regala una posizione di classifica per ora tranquilla alla Spal poi ci sono i 4 gol dell'Inter con il colpo di testa di Ranocchia in anticipo su Albano Bisarri che prenderà poi rete anche da Rafinha primo gol in A per il brasiliano ieri migliore in campo abbastanza per distacco nell'Inter Icardi finisce la pratica già a fine primo tempo con questa conclusione forte sul primo palo ancora una volta purtroppo non irreprensibile Albano Bisarri arriva alla fine il 4-0 rimpallo che favorisce Borca Valero palla in buca d'angolo nulla da fare questa volta per lo stesso Bisarri e infine il gol della Roma un altro colpo da biliardo quello dice Gisunder il turco torna a segnare da un gol pesantissimo per la Roma ma anche per i destini della salvezza tornando allo scudetto della Juve ce l'ha in pugno dice la Gazzetta un urlo in privato davanti alla TV non mai lo scudetto è una formalità allegra più 16 di differenza reti sugli azzurri e per i tifosi è già iniziata la festa domenica ci sarà quella sul campo tra l'olimpico contro la Roma cosa che probabilmente non piacerà molto ai tifosi giallorossi ma così è questo è quello che ci regala il calendario Juve mese da brividi riscatto con la Samp lo stop a Crotone il caso Orsato che ha infiammato il finale campionato deciso dal fotofinish l'effetto Madrid si fa sentire a Torino e Napoli si avvicina con quel gol di Coulibaly poi le polemiche di San Siro sono uno snodo cruciale Gazzetta dello Sport che tira già anche un po' le somme su quelle che sono i numeri della stagione bianconera invincibili e insaziabili la leggenda si rinnova a Roma questa è la domanda proprio della Gazzetta con le foto dei protagonisti Buffon di Bala Higuain Douglas Costa e il loro condottiero Massimiliano Allegri Mandzukic non molla Pjanic e Benassia ok Chiellini ci prova a esserci con il Verona dove ci sarà la festa vera e propria con la consegna della Coppa perché il Napoli ieri si è arreso questo sentenzia la Gazzetta la resa del Napoli Torino chirurgico Azzurri fermati il sogno finisce qui Baseli e De Silvestri rispondono a Mertens e Amsic che bella rivincita per l'ex Mazzarri queste sono le immagini dello sconforto dei giocatori del Napoli ci siamo siamo pronti per tornare a Cussignac da Davi Zanirato quindi Rullo di Tamburi e linea a voi eccoci qua siamo pronti Stefano lasciamo l'incombenza a Gigi aprire la busta una busta che all'interno avrà i pronostici che avevamo fatto nel settembre scorso all'inizio dei campionati dei dilettanti ma non solo apriamo la busta eccoci qua siamo pronti per leggere i verdetti vediamo quante ne abbiamo azzeccate si parte con la Lega Pro e avevamo messo Porrenone Triestina Porrenone prima classificata sbagliato Triestina sesta sbagliato partiamo benissimo serie D Charlie Smuzzane settima in classifica un po' più sotto si è classificata un po' più sotto quinta anche questa siamo andati un po' lontanini eccellenza campione Lumignaco e invece il campione è stato il Chions outsider Brian e Gemonese Brian l'abbiamo beccata è stata sì in effetti promozione campione Casarsa invece il Flaibano se non ricordo male e l'outsider Prata Falchi che va ai playoff Prata Falchi sicuro che no forse non è neanche questa non l'abbiamo sanvitese e invece il promotore Primorie outsider Tolmezzo invece il Primorie va ai playoff questo sì dai eh sì questo sì un po' male abbiamo fatto male eh ma d'altronde in agosto sono tutte squadre che partono per vincere poi durante l'anno ci sono altre problematiche ecco questi erano i nostri pronostici ci proveremo il prossimo anno vediamo se il momento certo certo sperando che adesso L'Udinese si salvi prossimo anno parleremo di cose diverse dai sicuramente grazie grazie a Gigi Lanzilli a te Stefano grazie mille a voi eh sì effettivamente notavamo come la percentuale non fosse stata molto alta però abbiamo visto sulla Lega Pro sulla Serie C c'è stata molta fiducia nel Pordenone purtroppo ma riposta nel proseguio però non è semplice noi ci accorgiamo a quello che ha detto Gigi nel calcio d'agosto si fanno tante voci grazie mille a voi che ci avete venuto compagnia anche questo lunedì salutiamo l'edicola di Cussignacco andiamo a leggere ancora qualcosa della nostra rassegna stampa sportiva c'è la rivincita di Mazzarri il Torino c'è in Granata io darò sempre tutto abbiamo fatto un lavoro importante in quattro mesi ma comunque è un Mazzarri che già comincia a pensare a quello che sarà l'anno prossimo sulla panchina Granata adesso Inter dipende da te dice la Gazzetta Spalletti aveva detto anche se non era una questione aritmetica ha detto facciamo tre vittorie e andiamo in Champions e adesso è anche vero perché dovesse vincere anche la prossima con il Sassuolo non impossibile e battere la Lazio quello sì sicuramente è uno scontro diretto più difficile l'Inter sarebbe in Champions League goleata all'ora di pranzo poi il pareggio della Lazio fa felice Spalletti ecco qua la Roma che affronta Juventus in casa e Sassuolo fuori la Roma serve un punto per essere sicura della Champions League la Lazio che andrà a Crotone nella prossima giornata di campionato con la speranza che possa ottenere bottino pieno e poi lo scontro diretto con l'Inter che sicuramente deciderà un po' tutto di chi tra Inter e Lazio se noi diamo per certa la Roma in Champions League l'anno prossimo chi delle due andrà a far compagnia alla squadra giallorossa qui anche le pagelle di Udinese e Inter il migliore resta sempre Kevin Lasagna con 6 il peggiore Samir con 4,5 voti di certo non purtroppo Lusinghieri per l'Udinese Spalletti si gode la sua ottima Inter questa rabbia e due vittorie per la Champions adesso serve questo alla formazione nerazzurra da un nerazzurro all'altro continua a sorprendere forse ormai non sorprende nemmeno più tanta Atalanta Gasp a Roma contro la Lazio sta stretto il pari è una Lazio che resiste e rimedia nerazzurri vanno avanti con Barro hanno un'altra serie di occasioni Inzaghi senza immobile l'aria ciuffa con Caicedo Inzaghi stesso che ha detto in maniera molto onesta meritavano loro ci è andata bene il punto è già tanto l'Atalanta è stata brava la Champions dipende ancora da noi se dovesse mantenersi questa la distanza una Lazio che giocherà con due risultati su tre contro l'Inter Gasperini dice un peccato Europa sicura con due punti in più parla di prestazione straordinaria loro salvati da Stracoscia e infatti così è pensate che prende otto il portiere della Lazio un voto alto ma per chi ha visto la partita sicuramente meritato c'è poi la Roma che fa un colpo Champions il Cagliari è terzultimo un derva a segno Alisson è decisivo i giallorossi staccano la Lazio con un punto sono qualificati Sardi nel dramma oggi sarebbero in Serie B la squadra che al momento fa da cuscinetto come dicevamo tra l'Udinese ecco qua anche quelle che sono le pagelle si tuffa invece il Milan sulla Coppa Italia Cutrone o Kalinic il tifo vota Patrick Rino pensa a Nicola dubbio centravanti per la finale di Coppa Italia ricordiamo si giocherà mercoledì sera allo stadio olimpico di Roma tra Milan e Juventus Juventus che parte con i favori dei pronostici ma di certo il Milan vorrà cercare di beffare la capolista del campionato c'è poi la Fiorentina senza fine rimonta ad Europa Pepito gioia a metà un gol che mancava da tempo ma che non è coinciso con una vittoria poi ci sono stati i tre punti del Sassuolo con Politano che gli dà la salvezza aritmetica Samp addio all'Europa ancora un gol decisivo della punta che ha preso parte alle ultime dieci Reti di Enero Verdi è stato l'uomo in più per Beppe Iacchini chiudiamo anche con le partite salvezza che purtroppo hanno dato risultati non positivi per l'Udinese Chievo tre punti d'oro il Crotone torna nei guai Birsa e Stepinsky rifano l'esordio vincente di Danna nulla serve la replica di Tuminello agganciati Calibresi e l'Udinese a quota 34 festa d'anna Zengamaro il KO è bugiardo dice il tecnico del Crotone classifica il calendario il Cagliari trema più di tutti dice la Gazzetta che sottolinea sempre sulla carta come Spal e Chievo Udinese hanno impegni più semplici di Crotone e Sardi ma occhio agli scontri diretti eccolo il calendario con le stelline che non mentono questo deve essere anche una presa di responsabilità dell'Udinese comunque sono stelline sono ragionamenti fatti sulla carta però l'Udinese ha una stella e una stella le altre sicuramente di più facile anche quello del Chievo con Bologna e Benevento poi bisognerà vedere anche come il Bologna affronterà queste partite quello della Crotone e del Cagliari invece Zeppo di Stelle quindi bisogna sicuramente prendere atto di questo saranno partite non facili l'abbiamo ripetuto mille volte ma forse ripeterlo mille unesima volta fa sempre bene Paloschi Antenucci la Spal respira e vince una partita chiave contro il Benevento 2 a 0 andiamo in rapido flash su Corriere Tutto Sport il Corriere anche festeggia lo scudetto della Juventus è tuo anche se non aritmeticamente il pari del Napoli lascia i bianconeri con 6 punti di vantaggio il settimo scudetto è in cassaforte è mercoledì la finale di Coppa Italia decide Aurelio il San Paolo sta con Sarri se la prende con De Laurentiis Sarri fa melina se non è contento può mandarmi via Crotone K.O. sa solo salvo per quanto riguarda la Serie A Perugia in festa nel volley è campione d'Italia Pasticcio Ducati Marquez scappa nel MotoGP Aurez Champions Roma di Francesco Inguaglia e il Cagliari e resta solo basta un punto frena la Lazio vola l'Inter sarà decisivo lo scontro diretto infine tutto sport con festa Juve una Juve che tra l'altro festeggia grazie al Torino Torro spacca Napoli la Juventus può festeggiare nel ciclismo giro d'Italia terza tappa Viviani un bis che vale oro poi in spalla notizie veloci Spalletti rilancia sbancando Udine Roma ok a Cagliari grande Atalanta sbatte contro il muro Stracoscia poi Gianna Fiorentina Pioli che rimonta Gioia Rossi Golina dopo quattro anni e poi ci sono anche tutti gli appuntamenti di tutto sport e l'impresa storica del Perugia Volley in festa primo scudetto per la società Umbra che può festeggiare siamo arrivati al termine della nostra rassegna stampa sportiva io vi ricordo i tanti ricchi appuntamenti della giornata odierna tra l'altro oggi scatta l'edizione nuova del TG alle 22 e 30 dopo quella dell'ora di pranzo alle 13 e 30 e quella serale delle ore 19 nel mezzo ci sarà anche l'appuntamento consueto poi alle 21 con Udinese Tonight le immagini che vi faremo vedere della GSA quindi insomma una giornata molto molto ricca non conviene che a voi rimanere sempre in nostra compagnia qui su Dignos TV a voi rimanere a voi rimanere a voi rimanere a voi rimanere